San Ferdinando, premio riconoscimento Giovanni Paolo II. Oggi ascoltiamo l'intervista all'artista Attilio Fontana. Ricevere un premio nel nome di Giovanni Paolo II è sicuramente sempre emozionante. Sì, una grande emozione, insomma, quando è arrivata la notizia è stata accolta con molto entusiasmo. È anche un'emozione perché io ho avuto in qualche modo a che fare con questo papà, anche se sfiorandolo forse come molti. Però è una situazione molto bella. Quindi, così, c'è un po' questo ricordo. Mi ricordo in particolare con un coro con cui ho iniziato a cantare, un po' a fare il mio mestiere. Andiamo in Vaticano e da adolescente si scherza un po' su tutto, in tutti i momenti, no? Quindi si è più gogliardici. E devo dire che mi ricordo proprio invece questa energia grande che è arrivata nel momento in cui arrivo a lui. E quasi ci mobilizzammo tutti, proprio da questa aurea, come dice, aura. Che portava con sé. E quindi era veramente un personaggio, oltre che, insomma, il papa però, insomma, era un personaggio molto, molto carismatico, di cui si subiva questa, la bellezza di questo silenzio, mi ricordo. Cosa pensa che abbia lasciato oggi, a distanza di qualche anno? Mi dà l'idea, forse un po' come papà Francesco, ma in una forma diversa che sia stato... Poi io ero bambino, quindi mi ha accompagnato, insomma, per tanti anni, era lui il riferimento, era quasi una sorta di nonno, di papà alternativo, no? Mi dà l'idea che abbia avuto la possibilità di avvicinarsi di più alle persone, un po' come se avesse teso la mano un po' anche più in basso. Questo lo rendeva un papa con questo sorriso molto accattivante e, soprattutto, io che faccio teatro, insomma, so che da giovane fu un teatrante, quindi era anche una persona che comunicava molto, perché a volte anche questo fa parte un po' del mestiere, quindi aveva questi guizzi, questi sorrisi un po', se vogliamo, da attore, no? Da questo volto molto... che arrivava molto presente. Quindi un insieme di tutte queste cose che, secondo me, lo hanno reso speciale sia come figura religiosa, ma anche come qualcuno che sembrava essere della tua famiglia.